Dal 1 ottobre scatterà al trimestre anti-inflazione sul carrello della spesa. È quanto prevede il protocollo di intesa sottoscritto dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dai rappresentanti delle associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale, che ha l'obiettivo di accelerare il processo di rientro dell'inflazione già in corso negli ultimi mesi e che è proseguito anche a luglio. Entro il 10 settembre saranno definite, con le associazioni che hanno sottoscritto l'accordo, che riguarda anche beni primari non alimentari come i prodotti dell'infanzia, le modalità del trimestre anti-inflazione, che durerà dal 1 ottobre al 31 dicembre e che prevederà prezzi calmierati su una selezione di articoli rientranti nel carrello della spesa, attraverso diverse modalità, come l'applicazione di prezzi fissi, attività promozionali su prodotti individuati o mediante iniziative sulla gamma di prodotti a marchio, come carrelli a prezzo scontato o unico. Secondo Urso, con il paniere calmierato, sarà possibile dare un definitivo colpo all'inflazione, riconducendola a livelli naturali. È stata raggiunta l'intesa in conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto PNRR Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare per un valore di 400 milioni. Il provvedimento prevede significativi investimenti finalizzati al rinnovamento del parco macchine agricole, con un particolare focus sulla sostenibilità ambientale. Si prevede la sostituzione dei trattori inquinanti con mezzi a zero emissioni e a biometano, con una spesa ammissibile fino a 70 mila euro e l'introduzione di strumenti per l'agricoltura di precisione, con una spesa ammissibile fino a 35 mila euro. Dopo l'intesa raggiunta la scorsa settimana sul complementare Fondo Innovazione, che finanza investimenti in innovazione che superano i 70 mila euro e fino a 500 mila euro, con questo decreto, secondo il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, si compie un ulteriore passo avanti, con lo sguardo al futuro in ambito agricolo, per puntare ad una maggiore sostenibilità ambientale ed energetica. Investimenti importanti che intendono dare un considerevole impulso verso la decarbonizzazione del settore agricolo, contribuendo così a mitigare gli impatti sui cambiamenti climatici. La Commissione europea ha selezionato 159 programmi da finanziare nell'ambito del progetto Erasmus. Le iniziative rispondono tutte all'obiettivo generale di sostenere la cooperazione internazionale nell'istruzione superiore e rafforzare la crescita e la prosperità a livello mondiale. La dotazione complessiva per il 2023, pari a 115 milioni, sarà utilizzata ad esempio per promuovere la professionalizzazione della matematica in Africa centrale, studi universitari in diritto dell'equità e dell'uguaglianza per i gruppi vulnerabili in America Latina, programmi di studio per un'economia blu sostenibile nel Mediterraneo meridionale e corsi per un cambiamento trasformativo nell'educazione sanitaria nel sud-est asiatico. Altri progetti in regioni diverse riguardano le competenze imprenditoriali delle donne in Asia centrale, la preparazione all'istruzione digitale nei Balcani occidentali, la creazione di uffici per le relazioni internazionali nelle università in Medio Oriente e i programmi di studio in materia di resilienza alimentare e nutrizionale in Africa occidentale. Quest'anno l'UE ha inoltre stanziato 5 milioni a favore dell'Ucraina per sostenere un progetto Erasmus su vasta scala rivolto alle università e inteso a rafforzare l'ambiente digitale per l'istruzione superiore nel paese. Il maltempo, il caldo estremo e le grandinate stanno incidendo sui costi di produzione, adattamento, riparazione e ricostruzione, influenzando i prezzi dei beni e dei servizi offerti al pubblico. Uno dei settori ovviamente maggiormente colpiti è l'agricoltura, il che comporta un aumento dei prezzi dei beni alimentari. Portaggi e frutta sono tra i prodotti maggiormente interessati da questa tendenza al rialzo.